Musica Stretta sul reddito di cittadinanza per migliaia di famiglie e sindacati contro la sospensione voluto dall'esecutivo la CGL pugliese, il governo si accanisce con poveri e territori più deboli il 27,5% delle famiglie in povertà Centro-sinistra al vertice dal PD ai civici, verdi e socialisti tutti al tavolo per sciogliere i nodi e rinsaldare i bulloni della coalizione regionale in vista delle comunali 2024 e della tornata di Foggia 5 stelle presenti, niente da fare per azione Bollicine di Puglia in mostra al castello di Monte Sant'Angelo per la serata curata dalla delegazione foggiana dell'associazione italiana Sommelier e Noturisti e Wine Lovers e circa 100 etichette in degustazione con tanto di gemellaggio con Sicilia in bolle Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento in diretta con la nostra informazione in primo piano La politica con la stretta sul reddito di cittadinanza Sindacati contro la sospensione voluta dall'esecutivo La CGL pugliese dice che il governo si accanisce con i poveri e sui territori più deboli dimentica che il 27,5% delle famiglie è già in povertà La sospensione del reddito di cittadinanza, come affermato dai segretari della CGL di Potenza è una scelta sbagliata dell'attuale governo che oltre a far esplodere i centri per l'impiego e i servizi sociali dei comuni, determinerà la cancellazione dell'unico elemento di civiltà e la rottura di un patto sociale con l'intero paese Con la sospensione dal 1 agosto del reddito di cittadinanza per coloro che non hanno nel nucleo familiari disabili o anziani o minori si riverseranno ai servizi sociali per essere inseriti in un programma multidisciplinare oppure presso i centri per l'impiego per essere inseriti in un programma di formazione e siccome noi sappiamo che abbiamo un problema negli ambiti sulla stabilizzazione degli assistenti sociali un problema nei centri per l'impiego a causa della carenza di personale siamo fortemente preoccupati per come si affronterà la problematica In Basilicata i nuclei familiari coinvolti sono 10.000 nuclei familiari in Italia in tutto sono coinvolti 197.000 famiglie quindi la bomba sociale è già esplosa Noi denotiamo una cattiveria da parte di questo governo nel aver abolito uno strumento di civiltà che era l'unico strumento di contrasto alla povertà del nostro paese Improvvisamente questo governo ha deciso di manifestare di comunque rompere un patto sociale con il paese eliminando un provvedimento che in qualche modo stava dando sollevo alle persone che soffrono e che sono in grandi difficoltà Questo dunque il fronte aperto in Basilicata vediamo però come e quanto impatta questo cambio di passo sulla Puglia e sulle province pugliesi questi sono i numeri Cambiati i requisiti per poter ricevere il reddito di cittadinanza In Puglia secondo i dati INPS ci sarà uno stop al sussidio nella modalità e con i requisiti previsti fino al mese di luglio per 11.933 persone La provincia pugliese che subirà la perdita maggiore in termini di numeri è Lecce con 2.939 stop 2.569 cittadini della provincia di Bari vedranno la sospensione del reddito a seguire 2.183 persone nel territorio tarantino 1.194 nel Foggiano Sospensioni poco sopra i mille per Brindisi e Labat rispettivamente 1.256 e 1.192 Sia ben chiaro il reddito di cittadinanza non sparirà per tutti continuerà ad essere erogato fino al 31 dicembre di quest'anno per le famiglie non occupabili che hanno tre componenti minori, anziani e persone con disabilità in attesa dell'arrivo da gennaio 2024 del nuovo assegno di inclusione La circolare INPS ricorda che l'assegno di aiuto pubblico cambierà per i nuclei occupabili composte da persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni non portatori di disabilità A partire da settembre infatti le famiglie che quest'anno hanno già beneficiato delle sette mensilità del reddito per il 2023 riceveranno un assegno di supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro mensili Il cambio di normativa che regola il diritto al reddito di cittadinanza apre inevitabilmente soprattutto nelle regioni del sud Italia un'analisi sulle situazioni socio-economiche definite fragili e necessità di politiche concrete di inserimento o reinserimento degli occupabili nel mondo del lavoro Una occasione, probabilmente per rivedere il ruolo dei navigator che hanno il compito o avevano di supportare gli operatori dei centri per l'impiego nella realizzazione di un percorso che coinvolgesse i beneficiari del reddito dalla prima convocazione fino all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua La politica romana ne discute così come lo fa dividendosi sul salario minimo così Arriva il sospirato sia la terza rata del PNRR 18,5 miliardi anche alle modifiche presentate dal ministro Raffaele Fitto per ottenere la quarta da 16 miliardi Il governo mette così in sicurezza l'obiettivo di incassare entro fine anno i quasi 35 miliardi previsti per il 2023 Per la Premier Giorgia Meloni è il risultato del lavoro portato avanti con coraggio in questi mesi ma se il PNRR per ora non desta preoccupazione il salario minimo è il terreno di scontro tra maggioranza e opposizione sempre più divise Noi perseguiamo con il taglio del cono fiscale e con altre misure contro le quali la sinistra stranamente ha votato loro parlano di salari ma quando li si aumentano la sinistra vota per il taglio dei salari noi invece facciamo proposte reali e quindi poi il confronto proseguirà nel Parlamento Se l'imprenditore paga 4 euro la differenza di 5 euro dovrebbe metterla il pubblico o lo Stato per cui se questo è il lavoro povero e gli imprenditori che pagano 3 o 4 euro sono degli schiavisti non può il pubblico o lo Stato dare delle risorse per aiutare questi schiavisti quindi noi non condividiamo questa impostazione e su questo chiaramente dovremmo andare a discutere con le opposizioni La nostra è una proposta seria di Cono Contest Line che viene incontro a milioni di lavoratori Ci sono delle dichiarazioni sconcertanti in ordine spasso da parte di tutti gli esponenti di governo a partire dalla stessa Meloni che da un lato vuole dialogare dall'altro però ha dichiarato ancora l'altro giorno che questa proposta di legge è uno slogan per noi non è uno slogan è una misura che deve necessariamente restituire dignità a lavoratrici e lavoratori sottopagati L'Inps dice che oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici stanno sotto 8 euro lordi di paga all'ora quindi partiamo dai dati ufficiali c'è un mondo che non ha diritti che è iper sfruttato al limite della schiavizzazione Fratelli d'Italia che una volta era destra sociale oggi si è trasformata nella destra d'elite e dei privilegi È un momento difficile l'inflazione acuisce i problemi dalle fasce deboli della popolazione il governo non può lasciare solo i sindaci a tenere le comunità e non può farlo senza risorse erano anni che non vedevo gente sotto gli uffici del comune così Antonio De Caro al Corriere della Sera è di tematiche economiche ma non soltanto quelle ha parlato la CISL questa mattina a Foggia ed è in parte l'agenda anche delle prossime elezioni Tanti temi da attenzionare soprattutto in vista anche dell'appuntamento con le amministrative per la città di Foggia ma non solo PNRR partecipazione attiva dei lavoratori qual è il messaggio della CISL? Il messaggio è un messaggio ecco importante rispetto alla grande raccolta firme che la CISL nazionale quindi declinata anche su tutti i territori abbiamo messo in campo siamo convinti che i tempi siano maturi per applicare l'articolo 46 della Costituzione Partecipare alla vita aziendale significa poter suggerire soluzioni e metodi utili a scongiurare i problemi atavici del mercato del lavoro in territorio di Capitanata ovvero delocalizzazioni chiusure aziendali e utilizzo di amortizzatori i lavoratori se interpellati potrebbero dire la loro per aiutare le aziende a compiere le scelte strategiche più giuste a garantire continuità lavorativa e produttiva questo è il messaggio lanciato dal segretario generale della CISL di Foggia che puntualizza la propria preoccupazione anche sui temi del PNRR e dell'appuntamento elettorale del prossimo autunno L'altra preoccupazione è il PNRR siamo fortemente convinti che ci sia sempre necessità sempre più di un coordinamento soprattutto per i comuni per gli enti locali che avendo un grande protagonismo nel piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere aiutati quindi noi abbiamo chiesto questa cabina di regia partecipata al Presidente della provincia ci torneremo sicuramente subito dopo la pausa estiva perché è importante collaborare in questa direzione un appello per il futuro prossimo della città di Foggia che merita attenzione da parte di tutti merita questa condivisione di responsabilità con un obiettivo principale che è quello che la CISL da tempo la centralità del lavoro la dignità della persona anche perché la centralità del lavoro toglie efficacia la criminalità Ancora politica da un altro punto di vista le immagini che vi mostriamo sono quelle del primo vertice del centro-sinistra pugliese in Via Gentile sono le immagini che arrivano dall'interno del palazzo di Via Regione li vediamo sono di Via Gentile il palazzo della Regione sono i capigruppo dei partiti di maggioranza ci sono il PD i civici i verdi i socialisti tutti al tavolo l'obiettivo è quello di sciogliere i nodi rinsaltare i bulloni della coalizione regionale in vista anche delle comunali 2024 e della tornata di Foggia la prima notizia è che ci sono i 5 Stelle non ci sono invece i rappresentanti di azione all'ordine del giorno non ci sono tecnicamente le amministrative ma inevitabile anche che questo vertice serva a dare a sciogliere i nodi e in qualche maniera a spianare la strada anche in vista delle alleanze che verranno e si riconosce Michele Boccardi da qualche settimana numero uno dei civici di Conn e nel corso delle prossime edizioni chiaramente a capotavola c'è Domenico De Santis numero uno dei Dem Leonardo Donno abbiamo visto alla guida dei pentastellati nel corso delle prossime edizioni tutto quello che c'è da sapere sul vertice intanto ancora politica ma da un altro punto di vista ovvero tutto quello che si muove dopo il vertice dei ministri sul corridoio 8 Il porto di Brindisi sarà uno degli snodi nevralgici del corridoio 8 un'infrastruttura concepita per rinforzare la connessione tra Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord migliorando la sicurezza delle popolazioni incentivando gli scambi commerciali i rappresentanti istituzionali Brindisini fanno il punto della situazione dopo il vertice internazionale della scorsa settimana Diciamo che stiamo cambiando passo è evidente questo l'ho detto anche nei primi incontri questa amministrazione comunale bisogna essere chiari con la spinta naturalmente l'aiuto anche dell'onorevole Dattis stanno spingendo in maniera importante su Brindisi e noi non possiamo che essere felici e contenti soprattutto perché al centro dei temi importanti di un appuntamento come quello appena svolto a Brindisi e che vedrà poi anche tre appuntamenti a settembre da settembre in poi un appuntamento internazionale che riguarda il corridoio 8 vede Brindisi al centro di queste iniziative e i temi dello sviluppo che sono importanti è iniziato un nuovo percorso per Brindisi rimarca il presidente dell'autority Ugo Patroni Griffi che annuncia anche novità sulla ZES dobbiamo andare avanti decisi in questo percorso completare le opere che ci siamo prefissi oggi ho visto il presidente della ZES dell'associazione mondiale delle zone franche mondiali quando vi ho fatto vedere i progetti che noi abbiamo sul nostro sistema quando ha visto il porto di Brindisi dice ma noi vogliamo venire qui ora vi porteremo gli investitori degli Emirati presto a vedere le grandi occasioni di investimento che questo sistema così come è pensato e oggi in via di materializzazione è presente la cronaca una giovanissima fasanese una piccola di 11 anni sarebbe stata convinta da tre giovani a inviare loro video e foto ose i tre finiscono sotto processo uno dei tre imputati è stato già condannato a un anno di reclusione e all'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minorenni gli altri due sono in attesa della sentenza tutti sono accusati di aver convinto una ragazzina fasanese di 11 anni a inviare loro video e foto ose ovviamente spacciandosi per suoi coetanei il primo essere condannato è un ragazzo di 21 anni originario di Catanzaro gli altri due sono un 22enne di Cuneo e un altro 21enne di Reggio Calabria i tre utilizzando profili falsi sono riusciti in tempi diversi a ottenere dalla bambina immagini che rientrano a tutti gli effetti nel materiale considerato pedopornografico la vicenda risale a luglio 2020 quando i genitori della ragazzina scoprirono con orrore che era caduta in un circuito di pedopornografia e immediatamente denunciarono l'accaduto alla procura ci sono volute alcune settimane agli investigatori per scoprire chi si nascondesse dietro username del tipo amore f4 davide pervi e boyfriends ma alla fine il quadro è stato chiaro senza possibilità di alcun errore a conclusione delle indagini la procura di brindisi ha emesso a cadico dei tre giovani un decreto di citazione diretta giudizio nei giorni scorsi a conclusione del processo per uno dei tre imputati per pedopornografia è arrivata la condanna la sentenza nei confronti degli altri due è imminente controlli sulle spiagge di salve sindaco e polizia locale aggrediti e minacciati da chi esercita abusivamente amministratori e polizia locale minacciati e parte la richiesta di aiuto allo Stato non ne possiamo più stiamo vivendo una situazione paradossale siamo continuamente minacciati perché vogliamo difendere la legalità il territorio di salve comprende 12 chilometri di costa in larga parte accessibile adatta alla balneazione un fiore all'occhiello per la comunità che però nel periodo estivo si vede la quasi totalità della zona occupata dall'esercizio delle attività balneari che per la maggior parte sono abusive quotidianamente vengono violate le norme che disciplinano l'attività di noleggio di attrezzature balneari che vengono in modo abusivo posizionate sulle porzioni di spiaggia libera trasformate in veri e propri stabilimenti balneari che sulla carta non esistono senza nessuna autorizzazione danneggiando così la collettività e dunque tutte le persone che vorrebbero soffrire in modo normale di quelle spiagge in questi giorni la polizia locale sta facendo i dovuti controlli finendo per essere aggredita non solo uno dei dipendenti sarebbe andato a casa del sindaco sbattendo i pugni contro il portone e subito dopo quando il sindaco è uscito lo ha offeso pesantemente abbiamo scritto anche al ministero dell'interno commenta il sindaco Villanova comunicando con una pecca la gravità di questa situazione e abbiamo chiesto un intervento dello Stato siamo stanchi di essere minacciati siamo stanchi di dover subire senza che lo Stato ci dia una mano ci spostiamo sul fronte ionico con le parole del vice comandante provinciale dei vigili del fuoco che arrivano al termine di una settimana di fuoco se così si può dire sentiamo l'emergenza incendi in questo periodo così caldo anche dal punto di vista meteorologico è ormai un'evidenza ma nella maggior parte dei casi è la disattenzione dell'uomo ad essere la causa dei roghi al di là del triste fenomeno dei piromani ne abbiamo parlato con il vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di Taranto ingegner Giovanni Pietroforte spesso la causa dell'incendio può essere dovuta a un comportamento non adeguato in certi ambiti anche involontariamente per esempio la bruciatura di stoppie oppure di erba presente nei campi che non dovrebbe essere fatta perché c'è una delibera dell'aggiunta regionale che lo vieta fino al fine di agosto se non ricordo male può portare a una perdita del controllo di questa azione che vuole essere un'azione che facilita diciamo la pulizia del campo e poi determina conseguenze più gravi o anche non lo so l'accensione di fuochi per una giornata fuori porta che diciamo d'estate può portare a conseguenze più gravi oppure ci sono i comportamenti dolosi che noi cerchiamo di riconoscere e quindi di perseguire secondo quello che è il codice penale vigente torniamo nel capoluogo oltre 180.000 esami all'anno e 1100 campioni eseguiti in un'ora con un sistema totalmente automatizzato per il nuovo laboratorio di microbiologia della ASL di Maria di Venere del capoluogo 180.000 esami all'anno 1100 campioni in un'ora con attrezzature ultramoderne di alta specializzazione che hanno rivoluzionato le analisi di laboratorio soprattutto nella riduzione dei tempi assicurando la qualità delle indagini la massima sicurezza per gli operatori e una migliore economia di scala per l'ottimizzazione delle risorse e in funzione il nuovo laboratorio di microbiologia della ASL Bari attivo all'ospedale di Venere del capoluogo la struttura ampia a 1000 metri quadri ospita tutta la microbiologia provinciale insieme a virologia allergologia biologia molecolare preanalitica autoimmunità tossicologia e area urine le apparecchiature più innovative si trovano nell'area di batteriologia completamente robotizzata dove è stato creato un backup strumentale un servizio molto più rapido al cittadino ridurremo in modo drastico le liste d'attesa e i tempi di refertazione prima normalmente si aspettavano 4-5 giorni per dare un referto di microbiologia noi ci auguriamo a pieno regime di poterlo dare dopo 24 ore e nei casi più importanti con l'ausilio della biologia molecolare potremo darlo anche nel giro di un'ora questo fa parte di un investimento realizzato attraverso sia i fondi di sviluppo e coesione circa 3 milioni e mezzo di euro completato per quanto riguarda le attrezzature con i fondi FES dei fondi europei per circa 650 mila euro quindi un importante investimento Cambiamo argomento è tutto pronto per l'edizione 2023 della Piazza la politica dopo le ferie a Ceglieve e Sapica che cosa si muove lo hanno raccontato questa mattina in conferenza stampa due vice premier presenti Tajani e Salvini ma non la presidente del Consiglio sulla Meloni ci abbiamo un punto interrogativo perché lei mi dice che vuole assolutamente riposare molto stanca e dipenderà dalle date delle vacanze da quando finiscono a Roma e da quando riesce a fare vacanza e già perché anche in piazza quella di Ceglieve e Sapica le assenze fanno più rumore delle presenze e allora di Meloni d'autunno si parlerà dal 26 al 28 agosto tra numeri statistiche e sondaggi umori di quella politica nazionale al rientro dalle meritate ferie estive e infatti il tema è già dal titolo Meloni d'autunno dice tutto noi vogliamo interrogarci sul governo Meloni dopo nove mesi di vita fare un bilancio e domandarci se e quanto durerà e se riuscirà a realizzare il programma se in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo terrà la maggioranza o ci saranno visto che si vota col proporzionale le divisioni interne al centro-destra che potrebbero creare qualche fibrillazione tra conferme presenze e collegamenti sfilata di ministri italiani e Salvini Calderone Fitto San Giuliano Urso e poi Michele Emiliano Antonio De Caro Loredana Capone Elisa Ronsulli Francesco Boccia Missiani e Patuanelli oltre ai giornalisti Feltri e Travaglio in cabina di regia c'è sempre lui Angelo Maria Perrino direttore di affaritaliani.it che chiede anche l'aiuto del pubblico Potremmo tante domande farle direttamente mi piacerebbe che la gente partecipi che mi faccia dei segni dal pubblico per chiedere di parlare perché il senso della piazza è questo mettere a contatto il big della politica con la pubblica opinione e c'è invece un'ultima ora prima di proseguire le immagini che vi mostriamo arrivano da Matera sono quelle del crollo di una palazzina in via Beccaria nello specifico tra via Lupo Protospata e via Desaris si tratta di una zona in pieno centro del centro della Basilicata non abbiamo ancora ulteriori aggiornamenti qualora ne dovessimo avere il nostro cutro è già operativo e dunque ve riforniremo nel corso delle prossime edizioni intanto andiamo avanti lo facciamo per tornare alla pagina degli spettacoli e degli eventi con il torneo ippico dei Due Mari a Taranto grande spettacolo all'ippodromo Paolo VI di Taranto per il Gran Premio Due Mari Trofeo Donato Carelli 46esima edizione a vincere la classica come da pronostico è stato Blef Dipa con Roberto Vecchione Insulchi che ha stabilito il record della pista e della corsa correndo il miglio al tempo di 1.10.04 al chilometro alle sue spalle al Waze Ecc con Massimiliano Castaldo Insulchi quindi Fotofinish pari merito per il terzo posto Back on the Top e Global e Trastuorti Il cavallo al 100% della condizione l'ha dimostrata anche l'ultima volta a Parigi si è evidenziata ancora di più la sua grande velocità Migliaia di persone hanno assistito alla emozionante serata condita dalla presenza di Giulio Golia Filippo Roma e Veronica Ruggeri di Le Iene e tante attrattive L'amore fra Le Iene e Taranto non passa mai Assolutamente no è un amore che va avanti da più di 20 anni iniziato io tantissimi anni fa proseguito mia sorella Nadia e ancora oggi quando arrivo a Taranto sento un calore incredibile Taranto è sempre accogliente in generale per tutti per noi delle Iene in modo particolare e stasera è stata una serata fantastica perché c'era gente molto simpatica divertente che ci ha divertito noi e spero che noi abbiamo divertito loro cosa stai dicendo? cosa stai dicendo? la mia collega è stata una bella serata questa del Paolo VI è stata una bella serata ci siamo divertiti molto ed è la prima volta per me la serata è stata condotta dal nostro direttore Gianni Sebastio e Rosalba De Giorgi media partner Antena Sud e la settimanale Lo Ionio visibilmente soddisfatte Anita e Milva Carelli che portano avanti l'Ippica al Paolo VI nel nome del loro papà Donato Carelli Bollicine di Puglia in mostra al Castello di Monte Sant'Angelo per la serata curata dalla delegazione foggiana dell'Associazione Italiana Sommelier Eno Turisti Wine Lovers per 100 etichette da degustare quest'anno abbiamo scelto 7 tra le migliori bollicine di Puglia cercando di rappresentare vitigni e territori differenti siamo passati dal Bombino Bianco al Negro Amaro al Nero di Troia e ad altri vitigni tipici della Puglia per sottolineare quanto la tipicità possa dare un risultato eccellente anche in ambito spumantistico una sera d'estate il Castello di Monte Sant'Angelo a fare da cornice e poi le bollicine quelle dell'evento dedicato ai vini spumanti regionali realizzato dall'Associazione Italiana Sommelier la serata curata dalla delegazione Foggio dell'AIS ha preso il via con una masterclass dedicata agli spumanti metodo classico del Tacco d'Italia cui hanno preso parte anche i presidenti dell'AIS Emilia e Abruzzo centinaia di enoturisti i wine lovers e circa mille etichette in degustazione proposte in abbinamento a piatti e prodotti del territorio con tanto di gemellaggio con Sicilia in bolle l'evento che celebra le bollicine dell'isola un evento dove mettiamo in risalto le bollicine un prodotto che in questo momento è in grande risalto un prodotto che sta trainando tutti gli altri prodotti enogastronomici e i prodotti vitivinicoli poi in questa splendida location in questa serata splendida ovviamente tutto è più semplice più facile tante donne e uomini che affollano la Puglia in queste settimane in questi mesi possano conoscere sia la bellezza del territorio e quindi i tanti luoghi meravigliosi che dal nord del Gargano al sud del Salento di cui noi siamo ricchi come questo castello meraviglioso come la Basilica di San Michele Arcangelo come il Gargano e come tantissimi posti qui in Puglia e poi siamo in grado anche di far conoscere l'eccellenza dei nostri produttori e torniamo in Basilicata con Lino Banfi ospite del Marateale ritorno in Basilicata a Maratea al Marateale sì sono venuto volentieri ho detto la verità perché l'avevo promesso a mia moglie quindi sono venuto anche per ricordare lei però avevo detto a lei delle cose bellissime della città mi sono trovato bene bella gente poi la Basilichetta come la chiamo io mi piace però la pensa un po' come noi siamo quasi ai confini insomma siamo tutti di Bolzena come mentalità poi ho saputo pure di Francavilla Fontana lì sono le cipolle che mi piacciono a me certe cipolle grandi così che mi mandano ogni tanto sbrigatevi a mandarmene le faccio al forno quindi le cose pugliesi invece qui a Maratea adesso non ho fatto la richiesta ma la farò dopo stasera da dove mi danno il premio alla carriera di questi peperoni che mi piacciono che scrocchiano lì quelli è un po' di soppressata la devo trovare se no come faccio a partire domani mattina senza la soppressata che mi dicono a casa che chezzo sei andato a fare mi fanno gran finale nella perla del tirreno per la quindicesima edizione del marateale premio internazionale Basilicata sul palco allestito all'interno del teatro sul mare dell'hotel Santa Venere tanti gli ospiti dell'ultima giornata della Kermess ideata da Nicola Timpone tra cui l'attore Lino Banfi che dopo essere stato omaggiato con la Way of Glory l'impronta degli artisti più amati ha premiato il duo comico Pio e Amedeo ma dalla Basilicata secondo quanto si apprende dal palazzo municipale la palazzina crollata in via Beccaria Matera dovrebbe essere sgombra non ci sarebbero persone all'interno ci sono controlli in corso per capire se al lavoro ci fossero degli operai al momento del crollo oppure no si tratta dell'immobile tra via Lupo Protospate via De Saris in pieno centro vi daremo maggiori aggiornamenti più tardi intanto ci fermiamo torniamo tra poco con le notizie da Bari Battefoggia state con noi rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia a le notizie a